La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Salerno, all'esito di una complessa attività di indagine della Polizia di Stato, ha disposto all'esecuzione di 21 decreti di perquisizione personale domiciliare e informatica nei confronti di diversi soggetti operanti sul territorio italiano per i reati di produzione e detenzione di materiale pedopornografico e prostituzione minorire. Le perquisizioni che hanno interessato prevalentemente le province di Salerno e Napoli, nonché la Sardegna, la Lombardia e la Calabria e il Trentino Alto Adice. La complessa attività investigativa è stata svolta dalla sezione di Salerno della Polizia Postale e delle comunicazioni a seguito di segnalazioni del Tribunale per i minorenni di Salerno relativa alla presenza nel web di un profilo Facebook in uso ad una minore salernitana contenente immagini di natura pedopornografica. Le indagini hanno così consentito di disvelare un gruppo di circa 20 persone che, mediante le chat di Messenger e WhatsApp, hanno adescato la vittima per produrre materiale pedopornografico. Le attività eseguite nei confronti di 13 salernitani, 4 napoletani, 1 calabrese, 1 lombardo, 1 trentino e 1 sardo hanno confermato quanto ipotizzato durante le indagini, consentendo di denunciarle per il reato di detenzione, produzione di materiale pedopornografico, prostituzione minorile e il sequestro di numerosi supporti informatici.